Oggi a DLS parliamo di antirazzismo, lo facciamo attraverso lo sport e lo facciamo grazie ai mondiali antirazzisti partiti ieri da Bosco al Bergati a Castelfranco Emilia in provincia di Modena. Questa ventunesima edizione dei mondiali antirazzisti che appunto dal 1996 la UISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti, organizza per combattere razzismo, sessismo e ogni forma di discriminazione. Sono 220 le squadre partecipanti in aumento rispetto alla scorsa edizione che si incontreranno in partite di calcio ma anche pallavolo, rugby, basket, oltre la metà delle squadre sono miste con la partecipazione anche di diverse squadre composte da rifugiati e richiedenti asilo originari di 14 paesi. Quindi da 21 anni c'è questa manifestazione che la UISP si propone di utilizzare, di utilizzare lo sport per garantire i diritti di tutti. Una visione, possiamo dirlo, alternativa rispetto anche allo sport tradizionale perché al centro ci deve essere il gioco ma in modo che diventi uno strumento per costruire appunto coesione sociale, per creare unione, per trovare come dire occasione anche di scambio reciproco. Questo poi è particolarmente importante in questo momento storico, in questo contesto che stiamo vivendo in cui le istituzioni nazionali ed europee, lo stiamo vedendo anche in questi giorni nel vertice di Tallinn, fanno ancora troppo poco per accoglienza dei migranti e dei rifugiati. Ma noi andiamo subito a Castelfranco Emilia dove c'è per noi Ivano Maiorella che è il direttore del giornale radio sociale che saluto. Ciao Ivano, buongiorno. Ciao Stefano, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Articolo 1. Allora Ivano, so che vicino a te c'è anche un ospite, quindi introducici un po' la giornata, il clima, l'atmosfera. L'abbiamo detto, ieri è partito ufficialmente intorno alle 16, un calcio d'inizio che è stato dato anche simbolicamente da Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, sappiamo in prima linea per il rispetto dei diritti, dei detenuti in particolare. Sì Stefano, allora intanto noi siamo in diretta qui da Castelfranco Emilia, a Bosco, albergati, praticamente piena pianura padana, c'è ovviamente un caldo asfissiante, ma questo caldo è un caldo anche di festa, un caldo festoso, 4 mila giovani da tutta Europa, come dicevi te, molti migranti, molti inseriti nelle associazioni contro le discriminazioni, contro il razzismo in tutta Italia e in tutta Europa, molti anche nelle cooperative sociali. Stanno riprendendo le partite il secondo giorno, qui si gioca a non stop dalla mattina alla sera, però se sei d'accordo per tutti gli aspetti organizzativi, accanto a me c'è Daniela Conti, che è la responsabile dell'organizzazione dei mondiali antirazzisti, magari da lei possiamo avere un po' gli ultimi tagli. Se sei d'accordo sperano, faccio il microfono a lei. Ecco, allora salutiamo Daniela Conti, come ci ha introdotto Ivano Magliorella, è iniziata ieri questa ventunesima edizione, ieri è iniziata con una partita di calcio, ma abbiamo detto che non è solo il calcio, tanti anche altri sport, però l'essenza di questa iniziativa è, come abbiamo detto, il gioco, la coesione sociale, insomma tutti gli aspetti che la Wisp conosce bene. Assolutamente sì, ieri abbiamo aperto il nostro mega torneo, quest'anno 174 squadre che giocano in contemporanea su 15 campi divise in 29 gironi, quindi insomma è un torneo abbastanza grande e complesso, ma oggi comincia anche la palla a volo, devo dire siamo particolarmente contenti, perché abbiamo stabilito un record, si sono iscritte 40 squadre, molte delle quali giocano anche a calcio, quindi io devo dire che sono stati straordinari i ragazzi che curano tutta l'organizzazione sportiva, perché le squadre che giocano all'avvolo non avranno la sovrapposizione con il torneo di calcio, quindi hanno fatto in modo che gli orari fossero spaltati, e domani invece dovrebbe partire il torneo di basket con almeno una trentina di squadre, e loro dovranno fare un triplo salto mortale, perché a questo punto dovranno non incrociare il calcio, la palla a volo e il basket, quando vogliamo giocare tutti. Certo, certo, questo è importante, e poi ovviamente oltre allo sport che è fondamentale, intorno a questa manifestazione di battiti, approfondimenti e anche tanta musica? Assolutamente sì, i mondiali non sono solo sport, come è un po' nella tradizione dell'USP, per noi lo sport è uno strumento per parlare anche di altro, per andare a viscerare i problemi sociali e dare delle soluzioni che chiaramente non risolvono i problemi, perché per farlo serve la collaborazione di tutti e anche delle istituzioni, ma sicuramente lo sport può essere un piccolo tassello per migliorare la nostra società. Dibattiti, ne abbiamo cominciato uno ieri, molto importante, sulle pari opportunità di genere e la lotta contro omofobia e transfobia, andiamo avanti in questi giorni con temi più legati al sociale, oggi tratteremo del tema delle ONG, di quello che si è scatenato in Italia contro le ONG, mentre invece moltissime di loro sono in mare per salvare vite umane e domani si parla invece del questionamento per gli stranieri, in particolare per i rifugiati, che noi chiediamo da anni venga applicato soprattutto nei tornei non competitivi come quelli che ci sono noi. Una sorta di use soli sportivo, insomma, un po' più… Assolutamente sì, assolutamente sì. Per noi è fondamentale, lo sport è uno dei pochi settori che davvero fa inclusione sociale senza grandi sporti, un campo di calcio, un pallone lo conoscono tutti, si dialo senza avere per forza la conoscenza della lingua, di avere una lingua comune, impedire alle persone di giocare per regole, che per carità a livello professionistico ci possono anche stare, a livello armatoriale, per noi lo sport deve essere davvero di tutti per tutti, come andiamo dicendo da anni. I mondiali tra l'altro noi li facciamo anche grazie a preziose collaborazioni delle istituzioni, quest'anno avremo ad esempio il patrocinio dell'UNHCR che ci inorgoglisce perché con loro lavoriamo da sempre, abbiamo anche il patrocinio che oramai è diventato storico della CGL dell'Emilia-Romagna che partecipa, gioca a calcio, abbiamo anche la squadra della CGL Modena, quest'anno hanno rinnovato i giocatori, sono portati i suonissimi, quindi insomma c'è molto apporto e anche durante i dibattiti sono quelli che ci portano una serie di informazioni. Poi fondamentale abbiamo l'assa calciatori che oramai vengono a giocare a calcio, credo che siano più interessati a giocare a calcio perché si divertono molto di più che a fare i dibattiti con noi. E oggi insomma ci sarà anche il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi. Sì, ho visto. Che devo dire, ogni anno viene a gestire almeno una partita. È vero, è vero. E questo secondo me è un gesto bellissimo. Innanzitutto un plauso perché portano una squadra mista, quindi di calciatori e calciatrici. e credo che questo sia un messaggio importante da parte proprio dell'Associazione Italiana Calciatori. Damiano viene sempre e questo è un altro gesto di disponibilità molto importante. Assolutamente. Allora io ti ringrazio molto Daniela, Daniela Conti. Sicurati, grazie a voi. Un attimo solo con Ivano, proprio per i saluti. Ivano Maiorella, direttore del giornale radio sociale. Ivano, ti volevo solamente chiedere per chi ovviamente non potrà essere lì in questa manifestazione. Ho visto che sui social, anche sul sito della UISPA, aggiornamenti continui su Facebook, foto, video. Sì, 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 assolutamente. Tu tra l'altro citavi Stefano il giornale radio sociale, qui presente la responsabile della... Esatto, tra un po' sentiremo proprio un suo contributo, una bella intervista fatta a uno dei tanti ragazzi, no? Rifugiati che partecipano a questa iniziativa. Sì, esatto. E poi c'è il contributo, devo dire, di parecchi media, social, anche radio locali. Viene proprio testimoniata una cosa che noi diciamo da tanto tempo, da quando è nato il giornale radio sociale, ovvero 5 anni fa, la radio è arrivata per tutto. È un po' come l'acqua, si infila nelle fratture sociali e dà, come in questo momento stiamo facendo, l'idea indiretta, l'impressione, l'emissione di quello che sta avvenendo. Perfetto, grazie allora Ivano Maiorella, grazie. Grazie a voi, buon lavoro. Allora, come abbiamo detto, grazie all'aiuto di Elena Fiorani, che è la responsabile della sezione sport del giornale radio sociale, vi facciamo sentire la testimonianza di un ragazzo, rifugiato della costa d'Avorio, arrivato da poco a Roma e ora è proprio lì a Castelfranco Emilia a partecipare a questi mondiali antirazzisti. Sentiamolo. Io mi chiamo Sumoro Abu, ho 31 anni, arrivo in Italia un anno, vengo dalla costa d'Avorio. Adesso sei a Roma? Adesso sei a Roma, a Cas Caselina, 1670. Da dove sei arrivato a Roma? Dove sei sbarcato in Italia? 7 luglio, adesso ho fatto un anno in Italia. Domani? Sì, domani. Grazie, domani un anno in Italia. E dove sei arrivato? Paloma. Palermo. Palermo. E da Palermo direttamente a Roma? No, no. Come si chiama? La cosa di Palermo di Roma. Palermo, come si chiama? Vicino a Roma? Sì, vicino a Roma. Quindi da Palermo direttamente a Roma? Sì, sì, a Roma vicino a Roma. Sì, sì. Ok. E come mai sei venuto via dalla costa d'Avorio? Non mi piace il padre, sì, perché... E sei venuto da solo o con qualcuno della tua famiglia? No, no, solo. Solo, 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 sì, sì. Però non c'è padre, solo mamma. Sì, sì. Quindi hai rimasto la tua madre da sola? Non solo madre nel paese, è il fratello. Sì, sì, è il fratello. E una sorella. Sì, sì. E invece adesso a Roma cosa fai? Adesso in centro niente. Adesso fai niente, non lavoro, sempre vai a scuola, quando vai a scuola torna a casa, mangeria, dormire, niente. Scuola d'italiano o anche altro? Sì, sì, no, solo d'italiano. Solo d'italiano, sì, sì. E come l'organizzazione secondo te? Sì, l'organizzazione è bene, è bene. Sì, sì, è bene, va bene. E quindi come ti trovi lì al CAS? Secondo te una buona scuola? Sì, adesso è buono, perché io ho adesso un permesso di soggiungere due anni, è umanitaria, e adesso è buono. E fai oltre a scuola, fate sport, fate qualcosa lì al CAS? Sì, giocare come... Giocare e secondo un trenore come Antonio, i ragazzi lavorano in casilina, e Valerio, si è responsabile di noi. Ok, ai mondiali antirazzisti sai questa... Sì, adesso... Sì, sì, mi piace molto, perché adesso è la prima volta che arrivo qui, è la prima volta, è molto bellissimo, bellissimo. Ci sono molti giovani? Sì, molti giovani, molte persone, ragazzi nageriani, ivoriani, tutti ragazzi del mondo, Repubblica, Germania, dalla Turchia, dalla Turchia, molto, molto, Francia, molti ragazzi. Bella, la recepzione è bella. Senti, e a Roma invece come stai? Come... con le persone, con... ti trovi bene, sei... ti senti accolto? Sì. Ti senti un clima di discriminazione? Sì, una discriminazione, però in Roma è molto, molto antirazzismo. Sì, molto, molto, molto antirazzismo. Quindi la senti? Sì, la senti. Senti un clima di... Sì, sì, senti, molto, molto di racismo. Sì, sì, quando prende l'autobus, tanti ragazzi, tanti persone, prende, come si dice, eh... da panonazzo. L'anenzo, perché io è nero. Tanti, tanti racismo. Eh, ma però, che deve fare? Niente. Quindi, la senti questa cosa? Insomma, secondo te, a occhio nudo si vede? Eh, ma che deve fare? Non lo so. che però adesso in Italia, quando arriva in Italia, non ancora, eh, come si dice, in Ivarian, adesso in Italia, perché io sono permesso di soggiorno di due anni, in Italia, e adesso in Italia, devo parlare in Italia, devo comunicare ai ragazzi d'Italia, tutti... eh, difficile, eh? Piano piano. E quando invece sei arrivato a Palermo, la prima accoglienza, come è stata? Ha funzionato? Ti hanno fatto, non so, aspettare tanto tempo in un centro? A Palermo o... A Palermo? A Palermo. La prima volta, proprio quando sei arrivato? Eh, molto, molto contento. Molto contento. Perché io, arrivato in Italia, no problemi, perché tanti, tanti persone, sono morti, a mettermi in tirano. Eh, quando sono arrivato a Palermo, molto contento. e le persone che ti hanno accolto sono state bravi? Sì, bravi, occupati, vestiti, scapi, bene, sì, bene. E questa era la testimonianza raccolta da Elena Fiorani, che ringraziamo, del giornale radio sociale e questo rifugiato della costa d'Avorio. Ma per raccontarci un po' meglio lo spirito dei mondiali antirazzisti, abbiamo chiesto aiuto al presidente nazionale di UISP, Vincenzo Manco, questa è la sua risposta. I mondiali antirazzisti sono di fatto da 21 anni un ottimo esempio, un'ottima pratica dal basso per far vedere non soltanto al sistema sportivo di quali possono essere le regole del gioco per permettere a tutti appunto di fare sport, perché ai mondiali antirazzisti non si fa solo calcio, si fa anche pallavolo, basket, rugby, chuck ball, ma soprattutto per inviare un messaggio al mondo trattandosi appunto di mondiali che la convivenza è possibile, l'accoglienza con un senso di forte responsabilità sociale e la UISP sta dentro al terzo settore, un'associazione sportiva di promozione sociale, sta dentro alle reti sociali che devono diciamo investire sempre di più in occasioni per migliorare la qualità della vita delle persone per affermare i diritti di ognuno. Ai mondiali antirazzisti dal 6 al 9 luglio accade questo, 4 mila giovani da tutto il mondo, 170 squadre del calcio, 220 se comprendiamo anche gli altri sport per dire che convivere si può dentro un quadro come si diceva prima di riferimento internazionale sicuramente complicato, la UISP ha anche preso posizione rispetto a quello che è stato diciamo un tentativo di accordo trilaterale di recente in Europa che non ha sortito gli effetti sperati ma siamo con le ONG le ONG fanno il loro e svolgono il loro compito encomiabile e cioè quello di intervenire per salvare vite umane e per metterle in sicurezza ripeto con responsabilità sociale stando all'interno delle regole ma svolgendo e affermando assolutamente questo noi siamo antirazzisti e lotteremo fino in fondo per ogni forma di discriminazione di sessismo che ci possa essere tutto questo accade in quei giorni a Castelfranco India nei mondiali antirazzisti ecco Manco giustamente hai sottolineato come la UISP ha fatto e fa della solidarietà dell'inclusione una ragione di vita quotidiana ti chiedo però quanto è difficile però operare anche nei territori in questo momento in questo contesto in questo paese in cui come abbiamo detto il migrante è visto sempre più come un problema che invece come risorsa immagino insomma che sia difficile operare in un clima avvelenato come è adesso il nostro purtroppo come posso dire il sintomo del razzismo in questo paese quando magari non si è avvertito in modo troppo evidente è sempre rimasto latente a mezz'aria noi abbiamo costantemente il compito di far vedere costruendo appunto buone pratiche e anche confronto culturale dibattiti discussione per approfondire questo è un paese che da moltissimi anni ha perso il senso della profondità dei problemi le società sempre di più stanno diventando società complesse le società complesse sono legate necessariamente purtroppo aggiungerei alle diseguaglianze di ricchezza diseguaglianze di territorio diseguaglianze di opportunità e questo non riguardano soltanto i territori dello stivale riguardano ormai i territori dell'Europa e del mondo questa diseguaglianza va risolta o va comunque accorciata assumendosi delle responsabilità i governi le istituzioni pubbliche per la loro parte la WISP l'associazionismo di base lo sport sociale le reti sociali il terzo settore per la propria parte e noi vogliamo dire che nella difficoltà in un sentimento razzista che comunque sta riaffiorando da qualche tempo noi vogliamo essere un baluardo non un baluardo di retorica perché appunto i mondiali antirazzisti sono un esempio concreto insieme a tantissimi altri progetti che la WISP così come altre organizzazioni delle reti sociali di questo paese svolge realizza nell'arco diciamo del tempo da molti anni a questa parte quindi no alla retorica sia alla responsabilità sociale e nonostante i tempi difficili la WISP continua a sentire il bisogno l'impegno la responsabilità di dire che il razzismo in questo paese non deve passare abbiamo già visto purtroppo periodi difficilissimi periodi tragici non li vogliamo rivivere quindi un baluardo chiaro su questo investendo costantemente su buone pratiche far vedere che si può ripeto con responsabilità e senza retorica non partecipando ai dibattiti diciamo per dire se siamo buonisti o meno no no noi siamo assolutamente responsabili e abbiamo una visione di mondo la WISP sta dalla parte giusta di quella visione del mondo di questo è convinta ecco allora prendo proprio l'assist che mi hai fatto sulle buone pratiche perché siamo anche in piena discussione sullo IUSSoli anche se pur temperato ecco allora ti chiedo come lo sport lo sport di base in questo caso può aiutare può accelerare questo difficile anche processo di cittadinanza noi tra i vari dibattiti nei giorni dei mondiali antirazzisti uno è proprio legato a questo avremo l'occasione tra l'altro ne approfitto per ringraziarla di avere Alessandra Morelli delegata dell'UNHCR che insieme ad altri ospiti insieme anche al sottoscritto rifletterà proprio su quelle che sono le norme che ci sono all'interno dei vari regolamenti federali nazionali e internazionali delle varie federazioni sportive e via dicendo per diciamo attivarsi per la rimozione di norme appunto discriminatorie c'è stato comunque anche in questo paese già un intervento per quanto riguarda una leggina che prevede un riconoscimento dello IUS sportivo sul tema dello IUS soli noi siamo schierati fin dall'inizio all'interno dell'alleanza del network l'Italia sono anch'io auspichiamo che lo IUS soli possa oggi diciamo fermo in discussione al Senato possa trovare l'approvazione del Parlamento per far avanzare civilmente quindi una conquista di civiltà sempre per tornare al famoso baluardo e dalla parte dalla quale noi vogliamo stare una conquista di civiltà per questo paese perché stiamo parlando di persone che quotidianamente vivono nelle scuole negli ambiti di lavoro nelle famiglie che ogni italiano incrocia ed è bene che questo incrocio sia un incrocio che sposti sulla convivenza e sulla mediazione sociale e sull'intercultura non sulle barriere non sui muri L'ultima domanda che ti faccio Vincenzo Manco presidente della UISP abbiamo detto che i mondiali antirazzisti si concentrano inevitabilmente su quello anche che avviene ogni giorno nel mar Mediterraneo ma lo sguardo lo accennavi tu prima si allargerà anche alla lotta alla discriminazione di genere con oltre la metà delle squadre iscritte composte sia da uomini che da donne ecco anche quella del sessismo una battaglia che fa fatica a vincere il nostro paese sia in ambito sportivo ma anche nella vita di tutti i giorni noi siamo costantemente anche qui impegnati soprattutto per abbattere il muro che ancora purtroppo vediamo ben solido del sistema sportivo siamo convinti che il paese qui aggiungerei magari voglio dire se facessimo qualche consultazione ci sorprenderebbe come è accaduto negli anni 70 per alcune leggi che immaginavamo non passassero penso al matrimonio penso alla 194 cioè al divorzio chiedo scusa la 194 eccetera secondo me il paese ci sorprenderebbe anche su questo il sistema sportivo è arretrato quindi noi discuteremo anche affronteremo un progetto che è il progetto gol il genere oltre il limite per cui i mondiali antirassisti da anni intervengono contro il sessismo e contro l'omofobia quest'anno ci mettiamo anche un qualcosa in più prevediamo ad esempio la collocazione di bagni chimici per le persone transessuali vogliamo il rispetto di tutti di ogni orientamento sessuale di ogni vissuto diciamo della propria sessualità anche in una fase di passaggio difficile perché di fronte a queste persone noi vogliamo porci nella condizione di creare appunto opportunità per vivere al meglio una condizione che già vivono loro come difficoltà di passaggio da un sesso all'altro noi siamo anche un'associazione coraggiosa abbiamo fatto un convegno qualche tempo fa sulla transessualità nello sport e vogliamo sempre di più quando si parla di diritti essere coloro che creano le condizioni per renderli fruibili e perché i diritti civili di ognuno possano essere finalmente in questo paese affermati un motivo in più dunque per partecipare a questa ventunesima edizione dei mondiali antirazzisti io ringrazio come sempre per la gentilezza anche il presidente della UISP Vincenzo Manco ovviamente buona manifestazione grazie grazie davvero a voi per la disponibilità grazie ancora grazie ancora Vincenzo Manco allora noi ci fermiamo qui UISP.it per tutte le informazioni a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori